ciao a tutti da vittorio il bologna in tre giorni ha chiuso l'operazione home addirittura oggi il giocatore che quest'anno ha giocato con l'atalanta sta svolgendo oggi le visite mediche il bologna in tre giorni ha chiuso un'operazione molto interessante perché il giocatore ha fatto molto bene all'atalanta merito di un grandissimo direttore sportivo l'ho detto già in passato anni fa addirittura dissi la lazio se vuole crescere deve prendere sartori come direttore sportivo e la riprova è il bologna che da squadra di metà classifica ha chiuso la stagione addirittura in champions league merito sicuramente tiago motta ma merito anche soprattutto direttore sportivo che ha scelto allenatore e che gli ha dato i giocatori giusti direttore sportivo che in tre giorni ha chiuso l'operazione home che se non vi dimenticate se non vi siete dimenticati era stato anche accostato alla lazio lazio che invece in tre giorni non riesce a chiudere niente anzi mi viene da dire ormai sono tre settimane che la lazio sta trattando col verona per noslin e cabal e l'operazione non si è chiusa anzi l'operazione si è complicata ancora di più ed è questo uno dei problemi di non chiudere velocemente le operazioni perché sì magari se vai veloce e chiudi operazione rapidamente magari sei costretto a pagare un po più il giocatore ma non corre il rischio dell'inserimento di un'altra società la notizia è che sul noslin è piombato il manchester united gli agenti del calciatore sono stati contattati dal manchester united che sta sondando un po il terreno per portare all'allenatore teragen olandese che adora giocatori olandesi un esterno offensivo che possa essere utile al manchester united questa è la notizia manchester united ovviamente non ha ancora affondato il colpo sta sondando il terreno il verona ha sparato altissimo secondo me perché 20 milioni solo per noslin mi sembra un prezzo eccessivo è vero che in inghilterra soprattutto manchester united non avrebbe problemi a pagare 20 milioni per un solo calciatore però mi sembra una richiesta un po eccessiva per un giocatore che obiettivamente ha fatto sei mesi bene prima del suo approdo al verona non è che avesse fatto bellissimo ma è segnale che la lazio se veramente vuole affondare il colpo per prendere noslin e cabal si deve muovere uno perché i tifosi sono stanchi sono ormai settimane che parliamo di questi giocatori sembra fatta sembra che veramente ci sia minima differenza ma la trattativa non si chiude ancora oggi cabal o noslin non sono venuti a roma a fare le visite mediche mentre ulm e a bologna a fare le visite mediche cabal e noslin sono tranquillamente in vacanza a godersi giustamente le vacanze dopo sei mesi molto impegnativi e aspettano di conoscere il proprio futuro lo dito io capisco che la tua strategia sia sempre quella di tirare trattative il più lungo possibile per riuscire a strappare sempre uno sconto ulteriore ma a volte questa mossa questa politica a volte ti risitorce contro e l'esempio ne abbiamo tanti ma potrebbe essere anche noslin perché se la lazio avesse chiuso l'operazione settimana scorsa il manchester united non avrebbe fatto un tempo a fiondarsi sul giocatore e a questo punto staremmo parlando di noslin che non è sicuramente un giocatore che mi fa impazzire non credo che con l'acquisto di noslin venderai 40.000 abbonamenti però almeno ti sei preso un giocatore che verosimilmente andrà a tappare il buco di felipe anderson adesso ci sarebbe da discutere per i ben anderson di un altro livello però noslin almeno te lo porti a casa invece così rischi oltre al danno la beffa il danno perché noslin rischi di pagarlo 20 milioni di euro insieme a cabal che mi sembra un prezzo forse un po eccessivo ma la beffa sarebbe che non solo non sei riuscito ad abbassare il prezzo ma te li sei fatti anche scappare e devi ripartire da zero perché se noslin e cabal non arrivano la lazio ha comunque bisogno di prendere almeno un terzino e ne ho parlato nel video di ieri mattina andatelo a vedere sul mio canale ma devi prendere anche un esterno d'attacco perché la lazio ha perso non solo felipe anderson ma anche giusto alberto e camada e là davanti siamo in difficoltà perché è vero pedro quasi sicuramente rimarrà a roma ma non mi fate pensare che pedro giocherà titolare la prossima stagione perché lo spagnolo che sicuramente sarà ricordato come uno dei più grandi campioni del calcio mondiale è un giocatore ormai sul viale del tramonto è un giocatore che può entrare gli ultimi 10-15 minuti ma sicuramente non ti può giocare titolare e noslin ripeto non è un giocatore che mi fa impazzire ma almeno prendi un giocatore fresco un giocatore che può sicuramente crescere può migliorare e soprattutto porti un giocatore in più in rosa visto che la rosa adesso è veramente scarna ma bisogna correre bisogna accelerare siamo a fine giugno è vero il calcio mercato ufficialmente apre il primo luglio ma come vi dicevo da sempre le grandi squadre sono quelle che si muovono prima di tutte l'inter ha già chiuso due colpi a gennaio per quest'estate la lazio sta inseguendo i primi colpi di mercato siamo una situazione di stallo preoccupante perché non solo su noslin e cabal la lazio rischia di farsi fregare greenwood ci sta grande margine c'è grande differenza fra domanda e offerta discorso simile per samarsic delle baciru è sparito c'è una non è stata ancora annunciato insomma il calcio mercato della lazio sembra al momento congelato e c'è il forte fortissimo rischio di beffa che farebbe solo infuriare ulteriormente i tifosi della lazio e tu che ne dici di questa operazione la lazio la porterà a termine prima della finale settimana scrivono al mentiva sotto e noi ci rivediamo domani con un altro video grazie ragazzi grazie grazie grazie